ciao ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale oggi video insolito ancora non caricato sul mio canale perché ho visto che ho avuto un po di richieste allora penso possa essere utile allora ho deciso di registrarlo non so quante volte ho trattato di registrarlo tra ieri domenica e adesso che ho finito di lavorare un po prima oggi cioè poco tempo fa ecco appena finito praticamente però se non lo carico visto che tutta la settimana sarà così che io finirò verso le 8 di sera e anche più tardi e se non ve lo carico adesso mi porto la stanchezza per tutta la settimana e almeno lo faccio e quindi ho deciso di caricarvi questo video di registrarlo parliamo di finish parleremo dei finish io vi parlerò di tutti i miei finish di tutti i miei segnalanti che ho a disposizione tanti li ho finito infatti quindi non andremo a parlarne perché inutile andare a parlare di qualcosa che non c'ho e iniziamo apriamo le danze allora io aprirei le danze con la mia amatissima crystal nail questa è la mia azienda del cuore e io faccio tutta la formazione con loro e quindi mi prodotti di qualità anche perché sono prodotti validissimi sappiamo che hanno un costo però la qualità costa ecco con tante altre cosine loro tipo anche dei costruttori non mi sono trovata però per il resto devo dire che veramente chapeau ecco e questo è il mio amatissimo e quando dico amatissimo perché veramente lo amo perché non so quante bocette me ne sono fatte fuori una volta utilizzavo soltanto lui però ragazzi costa costa 4 ml viene su 10 50 8 ml ti viene 15 50 13 ml e tipo questo ti viene 22 euro però devi anche inserire l'iva devi aggiungere il 22 per cento dell'iva e quindi adesso visto che ne ho scoperto tanti altri sempre validissimi e per me lui rimane un po per i giorni festivi ecco e anche per quella che mi comoda se devo dirlo così è brutto dirlo però è la verità perché ha il suo costo ecco lui è un segnalante senza dispersione solubile come vedete nel tapino universale cosa vuol dire possiamo andare sul semi l'acriglie 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 l'acrilico dappertutto che non ci creerà problemi l'unica cortezza di stenderlo non tiratissimo però non abbondante perché se non tende un pochino a colare visto la sua densità flessibile luce intesa veramente estrema per settimane filtro via anti gli alimento e un minutino un minutino in lampada led e siamo a posto veramente il mio amatissimo top cool poi loro sono venute fuori non tanto tempo fa penso un netto adesso non ricordo bene con suo fratello sempre la stesso top cool però 4 dark cosa vuol dire 4 dark dark vuol dire che è freddo infatti è una nuova formulazione che permette di ottenere la brillantezza e la reale pigmentazione ragazzi dei colori oscuri vi avevo preparato delle tip però oggi non sto di nuovo a rifarle perché sono stanca sono stanca sono stanca come densità siamo sempre lì media bassa ha le stesse caratteristiche ragazzi anche lui per tutto solo che vi lo consiglio infatti quando ci sono le offerte io prendo le boccetone più grandi perché veramente io lo adoro anche lui per me rimane per i giorni festivi ecco da usare nelle occasioni un po più carine e non andiamo a sprecarlo nei colori chiari andiamo ad usare il colore tipo il bordeaux che sapete che tende a girare ogni tanto al viola rimane infatti qua lo vedrete sotto perché poi avevo sigillato con un altro un altro sigillante che farò vedere dopo rimane bordeaux bordeaux non tende al viola il nero lo vedrete nero 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 poi nella stessa versione di di loro trovami troviamo il matte ben il mantenere è un finish però opaco ecco anche lui socco senza dispersione e io l'utilizzo anche lui per tutto semi acrilico perfetto anche ragazzi vi dico per quando andiamo a creare dei disegni delle fantasie sia con acqua o con water pro andiamo prima sigillare con matte ben perché avendo questa questa densità questo finish opaco non ci va a togliere quello che ricreiamo cioè ci rimane il disegno intatto invece se andassimo subito a farlo con un top cool si potrebbe un po andare a rovinare anche un po a muovere invece andiamo prima con matte ben sigilliamo e dopo di che andiamo se lo vogliamo lucido il disegno andiamo col top cool e non abbiamo problemi poi vi faccio vedere il top slime allora lui è un sigillante che me lo ritrovo per caso perché io non l'avrei mai preso prima perché con dispersione e io non amo il sigillante con dispersione ecco lui invece al rispetto del cool costa un minimo viene 18 60 15 ml allora però mi ritrovo da bene tanti ci sono anche altre vocete perché io ho la grandissima fortuna che ogni volta che vado a un open day della crystal no o qualsiasi cosa che fanno dove fanno la l'estrazione la lotteria io vinco sempre vi giuro vinco sempre 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 un top silai anche con altre cosette una volta ho vinto anche il quello di quello del del baby woman però vengo sempre il top silai e quindi mi è toccato amarlo top silai e per ora con dispersione come vi ho alimento, brillantissimo, non posso dire niente, è ancora più resistente che il top cool ragazzi, ed è solubile anche, non solubile, ecco, lui non è solubile, infatti andiamo ad usarlo solo sia per gel, che per lacri, gel eco, e andiamo a lasciarlo sempre più di un minuto, se con gli altri andiamo un minutino, lui lasciamolo un attimino di più, ecco, che gradisce proprio, la densità è un po' più altina, infatti lui è perfetto per quando dobbiamo andare a livellare magari la struttura, o abbiamo di piccolo imperfezionamento, degli avvalamenti, lui ci rende veramente poi la struttura perfetta, basta poi andare a trovare lo strato di dispersione e di invenzione con abbondante cleanser, ecco, però se lo impariamo ad usare veramente ci risulta molto utile, ecco, poi andiamo ad un'altra azienda ragazzi che io adoro, dovete sapere che io la Mida la adoro, l'azienda Mida Nikel, io la adoro perché ha dei prodotti validissimi, e ho approfittato anche, ne approfitto sempre quando hanno le sconto, infatti, loro vengono, se non ricordo male, sul 16-90, però prendo sempre il prodotto quando ho il 30% di sconto, non vado a prenderlo neanche con meno, se non ho il 30% di sconto, in questo caso ho avuto la fortuna che c'è stato dicembre, poi avevo il 30% della prima maraton, poi della seconda maraton, e quindi le ho presi sempre in offerta, io prendo le cose, visto che sono piena, solo quando sono in offerta, imparate a prendere le cose in offerta, che risparmiate, ecco, lui è l'extra gloss no guai, quando mi dite, che ma che sigillante c'hai, che bello, guardatelo, ecco, e lui è l'extra gloss no guai, lui non ha la dispersione e per quello già lo amo, ecco, flessibile, densità medio-altina, infatti, anche lui come topsy light, ci permette di andare a creare, a coprire dell'imperfezione, degli abbalamenti, che possiamo aver creato nelle strutture, hai filtro UV, non inghiallice, non si ritira durante la stessura, permette ragazze, infatti, guardatele dopo una settimana, di creare un punto luce pazzesco, questo costruttore, questa lampada che odio questa luce, guardatelo lì, il punto luce, e ragazzi, vi invito a provarli, ecco, vi invito a provarli, poi abbiamo il Chiantop, che è l'ultimo arrivato in casa mida, e lui è però con dispersione, però sinceramente non me ne può fregare di meno che abbia la dispersione, perché lo adoro, lo adoro, e questo, mi sono pentita di averlo preso, di aver preso soltanto uno, perché l'ho preso con la seconda maraton, infatti, è metà vocetta, e l'ho preso con la seconda maraton, quando era arrivato, perché appunto l'Olesia lì, quella dell'azienda diceva che era un po' più resistente, e infatti, perché non si graffia, e ha veramente, praticamente, è quasi la stessa caratteristica dell'Extra Gloss, però è un po' più resistente, ecco, media alta densità, non si graffia con dispersione, però, però, ahimè, flessibile, e io lo metto dappertutto, semi gel, acri gel, quindi di tutto, infatti, vi faccio un'anedota, e lì ho capito che veramente lui era, quando mi è arrivato, alle volte dico, ma testo anche in quelle più affidate, testo i prodotti, se non ho tempo di testarli su di me, e ho detto, ma, vediamo come si trova con questo siglilante, mi torna dopo più di un mese e mi fa, senti, Lady, l'ultimo siglilante che mi ha immesso, top, 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 quindi voglio l'ultimo siglilante che mi ha immesso, e lì ho capito che il ragazzino prometteva, promette, promette, infatti, vi consiglio, e per quello che vi dico che è soggettivo, perché lui non lo amo, lui che ha anche la dissenza di da la dispersione, lo estradoro, è così, poi abbiamo il bel bel top, sempre di loro, che è il finish matte, se prima con la cristal abbiamo una versione opaca, qua abbiamo una versione matte, ha una finitura matte, è un po', e vedete la colorazione è anche un po' diversa, molto, molto valido, perché l'ho usato, l'ho testato, e veramente, devo dire, ragazzi, che è validissimo, senza dispersione, anche lui, media densità, media flessibile, non è molto flessibile, però non avrete problemi con lui, densità un po' bassina, anche se non potete andare ad applicarlo corposissimo, perché se no vi inizia a colare dappertutto, però dovete trovare la via al mezzo, ecco, non è tiratissimo, perché se no vi possono lasciare le striature, lasciatelo un po' più abbondantino, ma non troppo, vedrete poi facendo delle pratiche come riuscite a stenderlo bene, e lui vi soddisferà, ecco, non cambia la tonalità dei colori, non si macchia, non si graffia, molto bene, molto, molto, molto valido anche lui. Qui abbiamo un'altra azienda, ragazzi, che praticamente io amo, anche lei presa per la Marathon, ho amato anche i suoi consultori, che già vi ho parlato di questa azienda, di questi sigilanti, un altro, in un altro video che troverete nel canale, sempre di questa azienda, Love Nail, e ragazzi, vi faccio vedere, questo è il Super Gloss, guardate, la luce intesa di questi colorini, è sigilato con lui, lui viene invece sul, se non è sbaglio, sul 15 euro, il sigilante, sia il Marathon, che il Super Gloss, e io lo adoro, senza dispersione, elastico, filtro UV, anti-alimento, anti-grafo, effetto bagnato pazzesco, 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 e lo uso anche lui dappertutto, semi, gel, lacri, gel, dappertutto. Quindi, adesso non posso metterlo, lo metterò tra un po', ecco, in prova, prova con l'acrilico, perché mi tocca riprendere l'acrilico, infatti mi tocca rifare i corsi, perché mi inizio a preparare per il prossimo campus, e quindi, che già mi sto cagando sotto, scusate, il francesismo, perché, boh, non so se sono bella pronta, bella carica, però, boh, ho tempo, quindi, però non ho paura di tornare fuori con l'acrilico, perché un prodotto è stato il mio primo amore, ecco, per tanto tempo avevo eliminato tutto, i gel, i semi, tutto, solo per l'acrilico, e mi tocca tirarlo fuori di nuovo. Ecco qua il supergloss, guardate, una densità mediattina, lui potete, anche lui ci permette di andare a coprire un po' gli avvalamenti, e ragazzi, questo è il mio preferito, tra quelli che ho opachi, lui ci dà una finitura velluto, se prima la trovavamo matt con mida, poi ce la trovavamo opaco con la crystal, qua abbiamo un velluto, avevo preparato anche qua la tip, guardatela, guardate, Molto, molto figo, l'ho dato, perfino il colore chiare, ragazzi, e mi è tornata dopo più di un mese, senza essere macchiato, e velluto opaco, veramente validissimo, quindi ve lo extra consiglio, ecco, non vi sto, io a me non mi ci viene niente in tasca, perché vi sto dando il mio parere, di come mi ci trovo io, infatti alcuni ve ne parlerò di più, altri di meno, perché vi sto parlando dei miei lucidi preferiti, ecco, i miei lucidi preferiti, la classifica è questa qua, crystal, mida, e l'off nail stanno lì, in pareggio, tutte e due, effetto velluto, e filtro UV, e senza dispersione, elastico, anti gli alimento, più di tre settimane, anche lui per sé, migli e lacri, guardate, da provare per credere, ecco, come si dice, provate per credere, in questi momenti non ho nessun, per questi qua, non ho nessuno, e buon, crystal non dà codice sconto, questi qua, a me già mi sono finite, e per la fan, penso che ancora ho il 25% di sconto, se qualcuna deve fare acquisti, sono là sulla fan, perché io ne ho fatto uno bello grandino, potete scrivermi in messaggio, o potete seguirmi su Instagram, e mi scrivete in direct, mi trovate come Ladies Break, tutto attaccato, e lì, vi posso dire, questi sono, e, devo dire che, da tempo, quello vi, sarò, ecco, sarò sincera, da tanto tempo, che non uso la fan, ecco, perché, avendo, sendo subentrati, altri prodotti, con i quali mi trovo, veramente bene, questi lì, un po' più accantonati, infatti, sono passati per i produttini, che uso per i piedi, sia le basi, e, tipo la G-001, e, e questi lucidi qua, vado e li prendo per il, per il piedi, ecco, però niente da dire, sono sigillanti, che sono validissimi, qua abbiamo i Top Coop, non wipe, loro hanno un prezzo, di 8, di 14, 90, 8 grammi, e, vengono l'uno, e, io mi sono trovata bene, quando li usavo a GoGo, perché c'è stato un periodo, che ne ho fatte fuori, anche di queste voccette, e, infatti, questa la sto finendo, sarà la seconda, terza voccetta di questo, e, non posso parlarne male, dei prodotti, della fan, ecco, perché io, mi ci trovo benissimo, senza dispersione, lui, Top Coop, è brillante, adatto sia per sempre, che per acri, 60 secondi in led, niente, una densità, medio bassina, non andiamo a stenderlo, ma media, più di bassina, media, però non andiamo a stenderlo, abbondantissimo, ecco, né tiratissimo, ecco, di lui, vi devo parlare male, 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 perché io, non mi ci sono trovata, del pill off, è un due in uno, un prodotto due in uno, sia, base che Top, come base, io mi sono trovata, malissimo, perché alla fine, a me, non è risultato il pill, non è risultato, come Top, però ragazzi, non posso dirvi, perché non l'ho mai utilizzato, come Top, appena finirò questo, inizierò ad usare questo, come Top, per i piedi, perché non vado per le mani, per i piedi, e ve ne parlerò, di più, in caso, altro non vi so dire, di lui, come Top, ecco, poi abbiamo, il Mad Top, non guai, anche lui, un male che ho fatto, usato per tanto tempo, anche opaco, come la Crystal, validissimo, non ho niente da dirvi, però, sono subentrati altri, che, ahimè, le hanno rubato il posto, ecco, poi abbiamo, il Siller Gel, che è, è un sigillante, per l'Acriel, per questa linea qua, la Sherp, che io, adoro, adoro, sono i miei, gli Acrygel preferiti, li ho tutti quanti, e vado ad usarlo, però, perché sarebbe un spreco, lo vado ad usare, soltanto per l'Acriel, ecco, non vado ad usarlo, per altro, validissimo, devo dire, che veramente, senza dispersione, lucido, resistente, andate tranquilli, con la fame, ecco, se fate questi, con la fame, poi, ragazzi, qua, abbiamo, un, ex amore, lo chiamo, ex amore, perché ormai, non ce l'ho più, quello lì, praticamente, mi rimane, un goccino, goccino, che conservo, che devo andare, a travassare, in un vasetto, tipo questi, io ad esempio, mi preparo anche, i siglilanti, questo è praticamente, un residuo, di un super chain, che avevo finito, di un altro, con un po' di, di polvere sirena, dentro, che dà un effetto, ragazzi, sull'unghia, wow, e ogni tanto, faccio questo, quello con questo, con il finish, che mi rimangono, allora, perché non ho preso, più lui, se è così, è, valido, ecco, prima, costa 8 euro, e quindi, il prezzo, veramente, infatti, peccato, che non ne ho presi altri, perché, perché io, feci, tanto tempo fa, un ordine, di questa, di questa azienda, perché mi erano incuriosito, le mus, di questa azienda, di una existing, però, non mi piaceva, che, facevano pagare, un sacco, le spedizioni, all'epoca, non ricordo, se erano 9 euro, e già lì, sapete, io sono una che vado al risparmio, sempre delle cose buone, naturalmente, però, voglio risparmiare, o preferisco, farmi un ordine, di 100 euro, o quel che, per non pagare, le spese di spedizione, preferisco, avere il prodotto, e lì, sia, qualsiasi, l'importo, devi pagarti, 9 euro, e già lì, ho storto un po', va bene, dopo di che, provo queste muschie, le ho trovato fantastiche, però, io, che non ho problemi, ringraziando il cielo, e devo dire, quei problemi, che ogni tanto vedo, di solevamenti, in giro, che io, non ce li ho, proprio, zero, 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 infatti, prima, mi è venuta una nuova, che, non aveva, un'unghia sana, un'unghia, dove non c'era, un solevamento, non c'era, non c'era, e sono rimasto, un po', così, però, sono casi, che purtroppo, vedo anche, di ragazze, che pubblicano, su Instagram, un sacco di, sollevamenti, e allora, questo a me, non mi è piaciuto, perché ho detto, no, se io, non ho problemi, di sollevamenti, perché me lo devi andare, a creare tu, e da lì, le ho accantonate, adesso, le rinisirò, ad usare, per altre cose, boh, mi inventerò, e lui, l'ho preso, in quel periodo, e ragazzi, devo dire, che l'ho amato, amato, tanto è, che l'ho amato, che, praticamente, l'ho finito, c'è ancora, un goccino, là, in fondo, in fondo, lui, un'alta densità, eccolo, però, guarda, è stato, veramente, un peccato, perché, universale, con un effetto, extra gloss, veramente, ultra brillante, pazzesco, senza dispersione, flessibile, adatto, anche, per attaccare, gli strass, 60 secondi, in lampada, è il gioco fatto, però, non dovendo comprare, più niente, su un United System, purtroppo, lui, è rimasto lì, ecco, ecco, perché non l'ho ripreso, però, se vi capita, di prendere qualcosa, in quell'azienda, provatelo, provate, l'estring, i chime, perché, è veramente, valido, 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 poi, andiamo a parlare, di Labvid, Labvid, cosa dire, topar 22,90, il prezzo, è saggiratino, lui, non so, per un momento, l'ho accantonato, l'ho accantonato, perché, non lo capisco, non so, se mi soddisfa, o non mi soddisfa, ecco, non so, o sono io, che non ho voluto, metterlo, veramente, alla prova, senza dispersione, adatto, per sé, migliel, l'acriglie, le 60 secondi, in led, per un, boom, sono, ecco, boom, sono lì, cosa prenderei, di nuovo, di Labvid, le punte, ecco, se voi, mi chiedete, anche lui, l'ho preso, con un, 25% di sconto, se no, no, di più, avevo il 35% di sconto, infatti, ho fatto una spezza fole, sono andato a spendere, sul 300, e passa euro, per degli agriglie, per dei decolori, perché, guardate, da prendermi schiaffi, perché, sono delle cose, che fai una volta, che non lo rifarò, mai, più, però, se devo dire, ecco, se voi mi dice, mi chiedete, cosa prenderesti da Labvid, vi dico, innanzitutto, le punte, fantastiche, 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 io le adoro, i pennelli, li ho tutti quanti, tutti, e veramente, sono super validi, e, bonde, ecco, non prenderei più niente, forse la maglietta, che mi era piaciuta, ecco, visto che in questo periodo, vi ho detto, che voglio essere chicosa, forse la maglietta, che, era, il Granville, sì, però, non penso avere, quella, quella botta alla testa, ecco, non penso aver preso, ancora sole, per, per fare quella folia, di spendere, per un Granville, 60 e passa euro, anche no, e niente, lui è ancora un, incompreso, ecco, io lo chiamo, l'incompreso, però so, che, appena muro un po' di questo, lo metto un po' all'opera, ecco, poi, andiamo, con, Carmen, nel, quale è stato amore, ragazzi, e odio, tanto amore, tanto odio, tanto è che, tanto è che, io, non penso prenderli più, ancora penso avere un'altra boccetta, perché le avevo presi, quando erano in sconto, perché una volta, cos'anno, sull'11, anche se adesso vengono, sull'8,99, li hanno scontato, e penso che ci sia, una nuova boccetta, anche, non c'è nemmeno più questa, però, a me ha deluso tanto, l'azienda, perché, quando io mi ci trovo, a votare via, soldini, perché, quando butti via, un prodotto, stai buttando via, i soldi, e visto che, nessuno mi li dà, nessuno me li regala, no, e, preferisco andare a spendermelo, anche, in qualsiasi cosa, ecco, per non buttarli via, e come prendere i soldi, prenderli e buttarli, nel ceso, e così, mi è successo, con questo, adesso vi dico, SuperChain validissimo, per me, sembra, il top cool, ecco, le stesse, praticamente, le stesse caratteristiche, di superChain, lucido, senza dispersione, elastico, consistenza fluida, facile applicazione, viscosità bassa, autolivelante, non si graffia, non ingiallisce, e stessura in estratto, sottile, come il top cool, identica, le caratteristiche, 60 secondi in led, per tutto adatto, quindi, universale, infatti, questo lo ho praticamente, finito, sì, è finito, soltanto, che signorino, cosa c'ha, di particolare, va a cristallizzare, tutte le settole, del pennellino, ho chiamato, la sienda, perché poi, uscissero, questi qua, è sempre super, c'ha i fratelli, però, pink, rosato, white, ragazzi, li ho buttati via, tutti quanti, mi è rimasto, solo questo, e dovete vedere, in che condizione, è il pennellino, guardate qua, guardate, e, e quindi, no, ho chiamato, l'azienda, mi hanno spiegato, che, per avere, questa qualità, così importante, buone, perciò, succedeva, che, era sensibile, alle lampade, guardatelo, l'ho preso soltanto, e già lì, si sta cristallizzando, guardate, che non vi dico bugie, eccolo, lui, più di tanto, non può essere a contatto, con la luce, e allora, io mi le ho chiesto, sì, scusatemi, posso capire, che per la qualità, è super, delicato, tutto quanto, che volete, però, se io le ho messe, il tapino, in un'altra azienda, mi spiegate, perché, il, 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 il pennellino, della, azienda, non si è cristallizzato, posso avere una, eh, lì, secondo me, mi hanno preso, profondelo, grandemente, visto che non sono l'unica, a lamentarsi di questo fatto, siamo in tante, perché, dopo di che, ho iniziato su Facebook, a scrivere su di tutto, e loro, altamente, se ne sbattono, tanto è però, tanto è però, che è ribassato, a 8,99, non costa più, 11 euro, e passa, come una volta, quasi 12 euro, allora, vuol dire, che qualcosa è successo, bu, non lo so, e non mi interessa, neanche andare a scoprirli, però, devo dirvi, che posso parlarvi bene, di lui, delle, strange, shine, ottical, lui si è rimasto, al suo prezzo, 11,98, ha le stesse, praticamente, caratteristiche, solo, che l'effetto, è olografico, guardate qua, che si vede, anche nelle boccette, ragazzi, è stupendo, stupendo, io lo trovo, veramente, guardatelo, io lo uso, molto nei piedi, ecco, o anche, quelle signore, quelle ragazze, che vogliono, un effetto naturale, tu gli dai, una passatina, un bel, costruttore, una passatina, di questo lucido, ragazzi, è, siete a, come si dice a Cuba, a cavallo, che vuol dire a cavallo, e quindi, promosso, almeno una cosa di loro, di questo qua, apro, e chiudo, parentesi, anche, in un secondo, non lo comprate, è, della nail lover, allora, una volta, ho fatto un bianco, e mi è diventato, giallo, mi cambia, tutti, i colori, quando, vi dico, che mi fa, anche, un po', ca, per andare, a stendere, le tip, perché adesso, lo prendo, quando vado, a prendere, le tip, e quindi, ragazzi, non prendetelo, costa, anche lui, una follia, e, mi era finito, uno che usavo, di questa azienda, adesso, più di tanto, che non prendo, niente di questa azienda, perché non c'è, non c'è più, il rivenditore vicino, e quindi, niente, ho aperto, e chiuso, la parentesi, ve l'ho fatto vedere, perché ce l'avevo in casa, se qualcuno, usa la nail lover, io con la nail lover, mi trovo benissimo, perché anche, il colore, li adoro, semipermanente, loro li adoro, però, questo qua, io non mi ci sono trovata, ecco, poi, andiamo su, passione, che penso, che tante di voi, li usate, vero, visto che il video, che più guardate, quando li carico, sul mio canale, questo, infatti, ragazzi, non mi ricordo nemmeno, la parentesi è chiusa, però vi dico, che non mi ricordo nemmeno, il prezzo, ecco, andiamo, con passione, un, gen, allora, qua abbiamo, l'acqua gloss, io però, devo fare una premessa, io non, adoro molto, io adoro, passione unghie, per i colori, per il costruttore, siglilanti, e robe varie, un po' meno, un po' meno, poi, 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 apro una parentesi, vela grande, vela grande, non comprate, i pad, di passione unghie, guardate qua, appena, arrivati, non, comprateli, se non volete, buttarevi i soldi, questi, sono anche, quelli, da 500, una volta, erano buoni, erano solo, quelli falliti, quelli, da 1000, guardateli, non comprateli, io ho buttato via, 5 euro, nel ceso, ecco, con questi pad, chiusa la, enorme parentesi, con i pad, di passione unghie, vi divertite, con me, vero, qua, abbiamo, l'acqua gloss, e, loro vengono, 11,99, come tutti sapete, l'uno, devo dire, che, l'unica cosa, che non mi piace, ecco qua, torno, tipo, è molto simile, al top silai, qua, quasi le stesse caratteristiche, non mi piace, perché, ha la dispersione, mi fa perdere tempo, però, è stra lucido, è stra resistenza, è stra resistente, non ingiallisce, sempre, grazie alla sua densità, che qua, non vedete, nessuna densità, ragazzi, perché, me lo son, ciucciata, oh, me lo son, ciucciato, avendo una densità, alta, ci permette, di andare, sempre a fare, questo lavoretto, di andare, a coprire, e, a liberare, un po', l'imperfezione, ecco, filtro UV, e, io lo uso, anche, per semi rinforzato, ancora una vocetta, perché, l'ho preso in offerta, quando hanno fatto, lì, il calendario, dell'avento, che loro, l'hanno fatto diverso, ecco, e ogni giorno, c'erano dei prodotti, scontati, e lui, è stato in sconto, o prima, non mi ricordo, so che, c'era, è stato, una volta in offerta, e l'ho preso, ecco, ho preso l'acqua gloss in offerta, e quindi, c'ho un'altra vocetta, però, che non la tiro fuori, perché devo finire, un po' di cose, già aperte, ecco, molto vallido, vallido, però, ecco, me lo sono chuchata, adesso devo aspettare, ad aprire la prossima vocetta, poi, rosé acqua gloss, le stesse, praticamente, qualità, dell'acqua gloss, è solo che, è trasparente, con una leggerissima, nuance rosata, non in giallice, non si maquia, è tutto quello, che ha l'altro, ecco, molto bello, per quando andiamo, fare il baby boomer, ragazzi, lo va veramente, ad essere bellino, ecco, ad abbellire, poi abbiamo l'ultra gloss, che a me piace, ecco, l'ultra gloss a me piace, per, a cosa mi piace l'ultra gloss, mi piace, ad esempio, faccio la mia bella struttura, metto un po' di glitterini, e no, estendo una bella passata di ultra gloss, metto i miei glitterini, di spolvero, vado in lampada, 30 secondi, 40 secondi, vengo fuori, effetto pazzesco, anche con le polvere chrome, e quindi, lui è senza dispersione, autolivelante, solubile, densità medio alta, infatti, guardate, densità medio alta, effetto specchio, è molto lucido, fantastico per i brillantini, come vi ho detto, e niente, 30-40 secondi in lampada, poi abbiamo l'ultra gloss, l'optica, l'ultra gloss, ragazzi, questo è, bellissimo, 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 guardate qua, guardate lì, guardate, come non amarlo, come non volerlo, ecco, infatti, qua ve l'avevo preparato, nella tip di ieri, guardatelo qua, bello, 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 prendetelo, se non lo avete ancora preso, perché quello, vi salverà veramente, un bel, costruttore, una bella colorazione, una bella tonalità, questo sigillante, e il ghiocco, il fatto, ha le stesse caratteristiche, dell'ultra gloss, senza dispersione, anche lui, effetto però, olografico, universale, autolivelante, solubile, resistente, di tutto, poi abbiamo, la base top, che devo dire, che io la uso, soltanto per i piedi, sono i miei prodotti, che vanno a, a sumarsi, a, quelli della fam, e le uso, sia come base, che top, per, per i piedi, questo invece, di questi qua, è consigliato, solo, so, cough, ecco, per i semi permanente, ha una densità, un po' bassina, lui, ecco, infatti, per i piedi, e per i piedi, è perfetto, perché per i piedi, non andiamo mai, a creare strutture, non andiamo a creare, mai volumen, basta, una passata, veramente, tirata, di base, e poi, anche il colore, anche quello, tirato, sigli, e abbiamo, e abbiamo fatto, e abbiamo fatto, lasciate sempre, una base, ecco, quello volevo dirvi, e niente, visto che io, ormai, come sto registrando, questo video, in un'altra maniera, alla fine, mi toccare, editarlo, però no, non lo editerò, soltanto, prenderò ogni singolo pezzo, e li metterò insieme, è venuto lunghissimo, però spero di essere stata, esaustiva, e qualsiasi domanda, qualsiasi perplessità, sapete che potete chiedermi, sono qua per quello, ho aperto il mio canale, proprio per quello, e mi fa piacere, condividere ciò che ho, quel che so, con voi, ecco, spero di essere simpatica, carina, se vi è piaciuto, lasciatemi un like, ringrazio, perché veramente, stiamo crescendo ragazzi, ho aperto così, per scherzo, questo canale, e, vedere ogni giorno, quando carico un video, che vado su, di, 3, 10, 4, che si, si, si iscrivono al canale, veramente, mi ringrazia, mi rialegra il cuore, ecco, anche con tutte le mie gaffe, anche se a volte, non sono presente, e per quello, che anche se sono, stanca morta, e ho anche la tisana, ancora a fianco, quella che la avevo con voi, perché questa settimana, e vi auguro, che sia come la mia, piena, perché, piena, 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 e niente, io, spero di farmi viva presto, un bacione, una buona serata, perché ormai, sono le 10 messe, sono su, dalle 5 del mattino, perché sapete, che io sono una pazza, tipo, ieri, la settimana scorsa, non avevo tempo, perché una settimana, anche le carica, e alle 5 messe, ragazzi, pensate, io ero a spostare, tutti i prodotti, e a spolverare, perché, se non lo facevo a quell'ora, in tutta la giornata, avrei potuto, in tutta la settimana, e nel weekend, purtroppo, sono lavorare, nella casa nuova, ancora, ahimè, e quindi, alle 5 e mezza, ragazzi, io praticamente, vengo, e mi metto, a fare le cose, tipo, se devo spolverare, se devo sistemare, un po' di carte, e, sono pazza, e quindi, arrivo alle 9 di sera, poi, che sono cotta, però, sono felice, anche, sono stata molto felice, che, mi sono fatta viva, e, tanti di voi, eravate felici, di, di risentirmi, ecco, se volete, vi ritorno a dire, di potete, seguirmi, su Instagram, e, anche se, in questo periodo, infatti, dovrei, editare, un po' di foto, che ho fatto, di lavoretti, che ho fatto, però, lì, riuscite a vedere, i miei lavoretti, però, neanche tempo di quello, in questo periodo, tante nuove, tante ricostruzioni, tanto, unico fagli, che, da, veramente, da paura, e, spero, di farvi, un video interessante, prossimamente, un bacione, adesso si, vi lascio, un bacione, buona serata, ragazze, ciao, alla prossima,